Buongiorno a tutti, siamo nuovamente noi di Wallflow Games e adesso vi presenteremo un nostro gioco sviluppato durante il corso del Politecnico di Milano al primo semestre Video Game Design in Programming tenuto dal professor Lanzi. Il gioco si chiama Entanglement, noi siamo, come dicevo, Matteo, Manuel e Alberto. Abbiamo presentato prima il gioco Forbidden Seas. Entanglement è un gioco platform, single player, che ha delle componenti puzzle. Possiamo definirlo come Super Paper Mario con due personaggi in un ambiente sci-fi. Perché Super Paper Mario? Perché in Entanglement è possibile switchare dalla modalità 2D a una modalità 3D. Quindi, diciamo, apre le porte a dei puzzle un po' più intriganti, un po' più particolari. Il nostro obiettivo è quello di poter rilasciare sia su PC che su console per dei giocatori mid-core. Abbiamo realizzato un prototipo giocabile, che potete provare più tardi, vi invito a farlo, su Unity. Brevemente vi accenno un attimo alla storia. È un single player, story driven, perciò velocemente vi dico che sono due scienziati che stanno lavorando ad un progetto di meccanica quantistica. Avviene un disastro e sostanzialmente si rompe lo spazio interdimensionale tra le due diverse dimensioni. In quel momento le due dimensioni si collegano tra di loro e appare una macchina strana che vuole distruggere entrambi i mondi. I due personaggi e i due protagonisti devono collaborare insieme per salvare tutti i due universi. Come dicevo prima, Entanglement è un gioco che unisce sia i giochi platform 2D che quelli 3D. Poi si potrà utilizzare due personaggi contemporaneamente durante la modalità 3D e sarà ricco di puzzle e labirinti per poter andare avanti nel livello. Ovviamente i personaggi potranno utilizzare i vari power up, i vari skill particolari che servono per collaborare tra di loro per risolvere determinati puzzle. Abbiamo previsto uno sviluppo di due anni, un budget totale di 250.000 euro, coperto praticamente quasi totalmente per pagare le persone che ci lavorano visto che non c'è bisogno di server o altri marchi ingegni. Il dato di rilascio abbiamo previsto l'aprile 2019. Ricapitolando, Entanglement è un platform puzzle, story driven, 2D più 3D. Prevediamo un break even alle 25.000 copie per un prezzo di circa 14,90 euro a copia, è stimato. Vi lasciamo con i nostri contatti e un breve video di gameplay del gioco. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie.